La nostra società è una società italiana che costruisce componenti di meccanica di precisione, di grandi tolleranze per vari settori dell'industria, tra cui anche il settore della fusione nucleare. A partire da circa dal 2004 abbiamo iniziato a collaborare con progetti per la fusione nucleare, tra cui il progetto ITER e attualmente abbiamo diverse commesse in corso. Appunto per il progetto ITER, commesse che dureranno per diversi anni e che coinvolgono un elevato contenuto tecnologico e sono relative al divertore di ITER, così come al settore dei magneti di ITER. Oggi siamo qui all'Industry Day per il DTT. Siamo molto orgogliosi e felici che il progetto sia fatto in Italia e abbiamo chiaramente l'aspettativa di partecipare a nuove gare con la speranza appunto di poter collaborare anche al progetto di DTT per poter mantenere in Italia una parte di produzione. Chiaramente lavorare su questi progetti ci ha dato grande soddisfazione, la possibilità di crescere come azienda, aumentare il contenuto tecnologico delle nostre produzioni, fare ricerca e sviluppo, collaborare comunque con questi enti scientifici che lavorano ogni giorno su questi progetti così interessanti. Quindi appunto speriamo che il progetto DTT possa portare in Italia molte soddisfazioni. Grazie a tutti.